Buongiorno ragazzi, passiamo oggi all'introduzione di una nuova assonometria. Ricordiamo che quando abbiamo affrontato per la prima volta l'assonometria, abbiamo detto che l'assonometria è una tecnica che ci permette di rappresentare con un unico colpo d'occhio, quindi con un'unica immagine, l'intera figura, solida o piana che sia. La differenza importante rispetto alla proiezione ortogonale qual è? Che la proiezione ortogonale ci imponeva di rappresentare almeno tre piani, quindi il piano verticale, il piano laterale e il piano orizzontale. La prima delle assonometrie che abbiamo studiato è l'assonometria cavaliera, che è quella di cui assi vi ho rappresentato da qui da questa parte. Oggi andremo a rappresentare invece un solido attraverso l'assonometria isometrica. Le differenze sono importanti, l'assonometria cavaliera abbiamo detto che predilige una vista frontale, quindi ha una predilezione per la vista frontale, che rimane esattamente come nella realtà. Mentre trascura sia per importanza che per dimensione le altre viste, questo perché ci ricordiamo che tutto quello che riguardava la profondità, quindi la vista laterale e la vista dall'alto, venivano fondamentalmente dimezzate proprio nella misura della profondità. Quindi lungo l'assonometria isometrica, invece lo dice la parola dove iso indica uguale, indica il concetto di uguale, di stesso, vuol dire che non ha nessuna predilezione, quindi le facce sono tutte ugualmente importanti e anche le misure sono tutte ugualmente importanti. Quindi non esiste una misura che viene in qualche modo cambiata o deformata come avveniva nell'assonometria cavaliera. Oggi parto da rappresentare gli assi per farvi vedere le principali differenze e poi faremo il disegno di un cubo nelle due assonometrie. Vediamo quindi gli assi come sono posizionati in assonometria cavaliera. Abbiamo l'asse X e l'asse Y sul piano cartesiano, quello che conosciamo un po' tutti anche dalla geometria piana, quindi a 90 gradi. E poi sempre a 90 gradi, ma con un angolo di rappresentazione pari a 135 gradi, quindi dobbiamo immaginare che questo entra nella profondità del foglio, questo asse Z. Quindi questi due angoli sono da 135 gradi nelle fasi di disegno. Qui invece vediamo, l'ho già indicato, che i tre assi che rappresentano appunto nello spazio saranno sempre a 90 gradi, ma sul foglio vengono rappresentati in questa posizione, vediamo che si trovano ognuno a 120 gradi. Già questo ci riporta al concetto di ISO, cioè di stessa importanza. Nessuna delle facce è predominante rispetto alle altre. Quando abbiamo disegnato un cubo qui, immaginiamo di disegnare un cubo di 3 centimetri in entrambi i casi, 3 centimetri di spigolo. Bene, cosa facevamo fondamentalmente? Disegnavamo un quadrato sulla vista anteriore, la profondità la dimezzavamo, e quindi qua sopra, e venivamo a disegnare la nostra figura. Come facevamo? Sempre per linee parallele. Ora farò una cosa un po' strana, in pratica parto, inizio a disegnare la figura partendo dagli assi. Due, ora la metto qui. Eccoci qui, andiamo a cos'altro, ok, questa è verticale. La sottometria cavaliera è qualcosa su cui abbiamo lavorato tanto, quindi non mi soffermo più di tanto, voglio solo rappresentarvi la figura così come la andrete a vedere. Ok, siamo agli sgoccioli, ora chiaramente... Eccoci qui. Abbiamo disegnato il nostro cubo. Cosa notiamo? Però che siamo partiti praticamente dallo spigolo posteriore. Lo vedremo dopo, non abbiamo mai lavorato partendo dallo spigolo posteriore. Anche nell'astonometria isometrica si può fare lo stesso tipo di lavoro. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo definire lo spigolo di 3 centimetri. 3 punti. 1, 2 e 3 e poi da ognuno dei punti riportare delle parallele al punto principale. 1 e poi da quest'altra parte 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 e anche in questo caso è praticamente finito. Per il resto quello del cubo è una situazione molto particolare perché siamo di fronte a una figura che ha tutti gli spigoli congruenti. Eccoci qua. Ora chiaramente la si vede un po' di meno perché dobbiamo immaginare che i tre assi rappresentano il fondo della figura quindi dovremmo ripassare più solidamente queste parti e meno quelle che si vede. però come vedete la figura è terminata. Adesso l'andremo a fare in una maniera più classica anche perché voglio insegnarvi ad utilizzare le squadrette per fare questo disegno. Cosa succede? Cosa notiamo? Notiamo che le tre facce hanno preso tutte e tre una forma identica quindi erano identiche prima sono identiche dopo è vero che sono rappresentate da tre rombi però hanno la stessa importanza qui avevamo una faccia che invece rimaneva quadrata e le altre due che venivano deformate e schiacciate quindi avevamo dei parallelogrammi. Proviamo adesso però noi non abbiamo mai disegnato la figura a partire dal fondo dal centro degli assi l'abbiamo sempre disegnata a partire dalla base tanto che quando abbiamo disegnato in astronometria cavaliera le operazioni che facevamo erano queste tiravamo l'asse e poi ci curavamo di avere quest'angolo a 45 gradi ma se partiamo da terra vuol dire che dovremo partire da questa base qui e se partiamo da questa base vuol dire che i due angoli che ci troviamo ad avere a destra e a sinistra sono due angoli di 30 gradi questo è un concetto fondamentale vediamo come disegnare lo stesso identico cubo però in assonometria isometrica partendo dalla base allora prima di tutto disegniamoci una base su cui lavorare quindi io mi appoggio a una linea certa la guida scendo giù e circa un centimetro dal fondo mi disegno lavoro con una matita più dura questa volta mi disegno la base mi servirà questa base? sì, mi servirà perché? perché appoggerò la guida invece sotto quindi è importante avere questo centimetro centimetro e mezzo circa scelgo il punto centrale dal quale iniziare il mio disegno l'origine e cosa faccio adesso? attenzione uso questa squadretta qui come guida questa invece sarà la squadretta con cui lavorerò principalmente a cosa mi serve il centimetro sotto? ve lo ripeto se ho una squadretta bella vecchia come la mia che ha perfino una punta spuntata nel momento in cui dovrò disegnare un angolo di 30 gradi mi potrò mettere in questa posizione come vedete la parte spuntata finisce sotto la riga di base questo piccolo trucco vi permette di utilizzare anche squadrette non proprio perfette vediamo allora come faremo prima operazione allineare la squadretta a 45 gradi alla base in maniera precisa poi sfruttando questa squadretta qui schiacciate bene con la mano la facciamo scorrere sulla guida fin quando non troviamo il nostro punto una volta che abbiamo trovato il nostro punto possiamo rappresentare il primo asse a questo punto vedete 30 gradi precisi mettiamo la squadretta in verticale e facciamo la seconda il secondo asse in pratica e questo è il secondo asse a basso la squadretta questa volta in una maniera un po' strana questa è la più anomala di posizione con i numeri contro la guida e disegno il terzo asse questi tre corrispondono a 1, 2 e 3 adesso abbiamo deciso di farla a 3 cm il mio consiglio quando dovete prendere delle misure ripetitive quelle di usare il compasso quindi apro il mio compasso a 3 cm il vantaggio di usare il compasso è che anche se dovesse essere io l'ho lasciato un pelo più grande non ha nessun impatto sul disegno perché? perché sono tutti più grandi quindi il nostro se lo lascio se lo faccio di 3 cm e mezzo il nostro cubo sarà di 3 cm e mezzo ma tutto non solo uno spigolo se invece misurate con una squadretta e ne sbagliate uno il cubo sarà evidentemente deformato una volta trovati questi punti li faccio così con la matita più dura me li ripasso un attimo perché andrò a cancellare l'eccedenza voglio che il mio disegno sia molto bello quindi cercherò di eliminare tutto quello che è costruzione man mano che lo faccio attenzione perché a parte qualche granello della gomma io continuo a vedere i 3 punti ora cosa farò? farò questa operazione allineo una squadretta lungo un asse per esempio questo quello che abbiamo appena tracciato appoggio la guida sul fianco sinistro e faccio scorrere questa fin qui e mi disegno un altro asse vedete? ora che faccio? posso se potevo farla anche prima senza staccare con la stessa posizione mi vengo a disegnare anche quest'altro ora faccio la stessa cosa da questa parte appoggio la squadretta lungo un asse che ho appena disegnato avvicino una guida e faccio salire la mia squadretta fin qua se sono stato bravo i due punti saranno allineati solo nel caso del cubo chiaramente adesso facciamo delle verticali quindi per fare la verticale allineiamo la squadretta all'asse verticale appoggiamo una guida sotto e disegniamo una e due verticali il disegno è quasi terminato eh io mi cancello quello che mi avanza mi piace tenerlo pulito come vedete ho disegnato molto molto leggero dovrò fare gli ultimi due assi allora uno sarà questo e vado a incrociare nel punto guardate c'era il filo della cuffia intrecciato eccolo qui uno sarà questo e l'altro sarà questo qui ora ve lo ripasso così da vederlo meglio ci manca cosa? ci manca un ultimo spigolo posteriore che è uno spigolo che non sarà visibile lo realizziamo adesso ma questo spigolo non sarà visibile ve lo faccio vedere bene come ripassando allora approfitto di una matita più morbida e uno e due e tre faccio la stessa cosa dall'altra parte e uno e due e tre ne sarebbero quattro per ogni asse ma io quelli posteriori non li sto ripassando e per finire mettiamoci in favore di luce l'ideale sarebbe disegnare sempre con la luce naturale purtroppo io oggi sono con la luce artificiale si vede due e tre abbiamo finito il nostro cubo va bene come vedete è un disegno abbastanza facile veloce e anche molto ben riuscito e lo stesso disegno chiaramente siamo partiti da sotto ricordate una asse a 90 gradi e i due a 30 gradi utilizzando questa parte una volta in una posizione e una volta nell'altra posizione come al solito vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione e vi do appuntamento e vi do appuntamento vi do appuntamento